Venditalia 2024 continua nel nostro percorso itinerante di questa fiera biennale siamo arrivati nell'area dedicata alla SISOFT SRL l'azienda siciliana di produzione soluzioni per i software per il vending che ha al suo interno uno staff giovanissimo e pieno di voglia di fare è il caso di Enrico Cicala il responsabile development dell'azienda Enrico è un gran piacere ritrovarti dopo quasi un anno grazie Fabio grazie è un piacere anche per me incontrarti sempre in questa occasione fantastica e piena veramente di opportunità e innovazioni qui a Venditalia i trend legati ai software e alle soluzioni per la distribuzione automatica sono trattati in modo egregio da tantissime aziende la vostra in questo caso è quella forse più giovanile forse proprio perché siete tutti giovanissimi Esatto Fabio noi appunto siamo un'azienda trentennale e da qualche anno appunto il nostro team ha introdotto proprio persone giovani come me il nostro vantaggio è proprio quello di essere dei software developer molto giovani e capaci di raggiungere scenari che difficilmente magari team più avanti immaginerebbero Tu provieni proprio dallo studio analitico dei software e hai iniziato alcuni anni fa a guardare tra le righe del vostro Sogeab che è uno dei software più utilizzati in alcune aree italiane software che mi raccontavi poco fa state rifacendo con un'architettura totalmente rivoluzionata Esatto Fabio perché appunto le tecnologie avanzano i linguaggi nuovi non mancano mai e quindi la nostra scelta è stata quella di includere un software gestionale che utilizzi un linguaggio ad hoc innovativo che possa appunto includere quelle che sono tutte le esigenze della telemetria intelligenza artificiale, intelligenza artificiale, ottimizzazione e prestazioni delle tempistiche su un gestionale che ad oggi sono veramente fondamentali ed essenziali Enrico quali sono le novità che siete venuti a presentare qui a Venditalia 2024? A Venditalia oltre il nostro software Progeab 2.0 che appunto come dicevo prima è il nostro nuovo punto di slancio perché stiamo riprogettando già in fase di sviluppo il nostro nuovo software Abbiamo avuto un periodo proprio di studio analitico e statistico basato proprio sullo sviluppo del nuovo gestionale Inoltre abbiamo incluso diversi sistemi di rilevazione per quanto riguarda gli audit che ad oggi sono diventati fondamentali proprio per la trasmissione anche all'agenzia delle entrate Tra i 10-11 sistemi che abbiamo inserito ne abbiamo due molto particolari come FAS che da poco ha introdotto un modulo bluetooth in boarding quindi in macchina e noi riusciamo a interconnetterci direttamente con la macchina e prelevare quello che è il dato audit e certificarlo per l'agenzia delle entrate Diversamente abbiamo fatto con Adimac abbiamo realizzato una partnership con Adimac proprio per consentire agli utenti di sfruttare quello che è l'MDB della macchina per renderlo appunto reattivo e sfruttare tutte quelle che sono le sue potenzialità in cloud Appunto noi riusciamo a interconnetterci con il loro cloud e riusciamo ad estrarre tutti quelli che sono i dati di vendita e successivamente certificarli per inottrarli all'agenzia delle entrate o ovviamente per effettuare analisi statistiche sul rendimento delle macchine Queste e altre, io direi anche tante altre funzioni che state andando a inserire nel vostro software gestionale a favore dei gestori del vending è possibile andare a vederli sul vostro sito internet? Esattamente, tra l'altro un'altra novità, proprio da poco abbiamo rinnovato tutto il nostro sito per permettere proprio ai clienti non solo di poterci contattare molto comodamente ma già dal sito avere un'anteprima approfondita e dettagliata di tutti quelli che sono i nostri servizi E allora, per entrare in contatto con voi, richiedere una demo senza alcun impegno naturalmente e magari iniziare a parlare di affari in modo concreto e strutturato Qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere? Certamente, senza nessun impegno potete benissimo contattarci su info-sisoftsrl.it e richiedere una consulenza assolutamente gratuita per avere maggiori informazioni sui nostri servizi Che ricordo sono tanti altri rispetto a quelli che tu hai descritto ora perché naturalmente non dobbiamo racchiudere in 5-6 minuti l'essenziale Ma tu mi hai raccontato le tante altre bellissime cose che state creando e che sono aggregate al vostro software gestionale Enrico, grazie per la collaborazione Fabio, grazie a te, grazie a tutti gli aspettatori di Vending TV e buon vendito a tutti Grazie a tutti!